Per quello che ho visto in campo forse mi aspettavo qualcosa in più, perché credo che la partita si potesse anche vincere. Credo che se dobbiamo guardare il punto positivo va bene, però non ho visto una gara di una squadra che voresse per forza vincere la partita, questo sicuramente sì. Ci sono due attaccanti che ancora non riescono a sbloccarsi come Gondò e Panico? Io non penso che sia questione di attaccanti, io penso che sia una questione che sicuramente anche i nostri centrocampisti devono saper mettere in condizioni sia i giocatori delle fasce che quelli che stanno in attacco di poter segnare, altrimenti palla fa tu, sicuramente abbiamo fatto 50 rilanci da dietro e o una spizzata o un colpo di fortuna ci può portare al gol. Io credo che oggi dobbiamo tornare al gol con un gioco che ci possa permettere anche di mettere gli attaccanti in condizioni di poter segnare. Ho visto un buon primo tempo, secondo tempo mi aspettavo sicuramente qualcosa in più perché il Gubbio sicuramente non sta in una condizione, penso che stia peggio di noi e oggi è una partita da approfittarne.